ciao amici metallari siamo in un bosco e qui inizia la nostra avventura è un po ripida ma vediamo di farcela guardate la natura che meraviglia questa è una roccia che aveva una spaccatura e all'interno della spaccatura c'è cresciuta una pianta grossa anche bella che cosa triste quando trovo le 500 lire ben conservata e a fianco la sua amica 200 lire 1988 dopo tanto girare finalmente perché appare essere una monetina molto sottile a fianco a fianco la sua amica 200 lire per gli ultimi scavini vediamo cosa c'è qua un bottoncino sembra impeltro impeltro con ma due cannoni incrociati lo vedremo poi dopo la pulizia giornata finita bottino un consiglio di tanto in tanto provate a scavare a diminuire un po' la sensibilità e a diminuire anche la discriminazione ogni tanto possono comparire dei strani chiodi a fianco la sua amica 200 lire a fianco la sua amica 200 lire a fianco la sua amica 200 lire